Hello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ E oggi sono su One Night at Flampties 2 Ma che gioia incredibile, ma che gira, cazzo giri E' una cosa drammigliosa ragazzi, appena ho scoperto che hanno fatto il 2 Abbiamo fatto salti di gioia per tutta la casa, infatti non so se si vede la mia felicità in faccia Ok, cosa cazzo è successo ragazzi? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti